La musica si fa teatro, il teatro si fa musica a una rassegna musicale teatrale in questo 2017 organizzata dall'Istituto Comprensivo numero 2 Pietro Borrozzo, di che cosa si tratta? Si tratta di una rassegna musicale teatrale appunto nata grazie alla collaborazione di più enti e nello specifico dell'Istituto numero 2 Piero Borrozzo di Nuoro, capofila, in collaborazione con Bocche Teatro, con la Scuola Civica di Musica Antonietta Chironi di Nuoro, con Cespe Lariso e l'ente musicale di Nuoro. Grazie alla collaborazione di tutti questi enti noi stiamo organizzando, utilizzando e sfruttando le professionalità dei colleghi presenti nell'Istituto e delle professionalità offerte dagli enti già citati una rassegna musicale teatrale che prevede la realizzazione di tre opere dedicate ai bambini e ai ragazzi e alle ragazze e alle bambine che sono i principali protagonisti che verranno seguiti dagli insegnanti, dai diversi collaboratori e non solo quindi saranno protagonisti nella musica, nel canto, nella recitazione e nella danza ma anche grazie al fatto che potranno costruire le scenografie e anche realizzare i costumi. Si inizia il 6-7 aprile appunto 2017 con l'opera Fudi. Sì, l'opera Fudi è un'opera di Andrea Basevi di Genova su testo di Roberto Piumini che è stata commissionata da Expo 2015 e quindi si parla di cibo. I bambini saranno a volte banana, a volte arancia, carota, mais, impersoneranno il cibo in una divertente e allegra opera che farà anche riflettere sul cibo. Sì, l'opera Fudi.